Guten Tag ragazzi e benvenuti o bentornati sul canale, in questo video andremo a vedere dove sono tutte le nuove informazioni rilasciate con la stagione 2 su Firebase Z. Se siete interessati a vedere dove sono tutte quelle nascoste invece nelle mappe di epidemia, vi lascio il video nella i in alto. Ma iniziamo subito partendo da quelle lasciate dai miniboss, infatti questi, alla morte, potrebbero lasciare un'informazione. Se ne può raccogliere una partita e in tutto, per quanto riguarda i miniboss di Firebase Z, sono tre. Passiamo poi a quelle ottenibili completando le prove informazioni. Su Firebase Z sono in tutto tre. Ora guardiamo dove sono tutte quelle sparse per la mappa. Allora ne troviamo due al villaggio. Per la prima ci basta salire le scale, andare a sinistra, ancora a sinistra ed eccola lì sotto il letto. Per la seconda rechiamoci in quest'altra stanza ed eccola qui sul mobile. Dopodiché spostiamoci all'avamposto, giriamo a sinistra, saliamo qui su dove c'è il condotto di ventilazione ed eccone un'altra appoggiata qui per terra. La prossima la troviamo dal lato della trincea del centro dati, alla difesa rocce. Ci basta metterci qui, sparare esattamente in quel punto e noteremo che dopo il primo colpo la radio cadrà, permettendoci di raccoglierla. Inoltre a breve arriveranno anche altre informazioni raccoglibili da queste radio del centro dati e della difesa rocce. Comunque spero che questo video vi sia stato utile e noi ci rivediamo molto, molto presto con un nuovo video. Al Fidersen